Bravo sei, in silenzio radio. Lasciate un bel mi piace anche per questo video, superiamo i mille perché vi spiegherò tutto quello che è successo ieri nella patch che ha portato questo nerf o presunto nerf delle armi. Poi oggi 13.30 in live sulla piattaforma Viola così approfondiremo le notizie che usciranno nel corso della mattinata Telegram e Instagram per rimanere aggiornati in tempo reale. Trovate tutti i link in descrizione più ovviamente la mia collaborazione con il controller se volete regalare un controller personalizzato. Bene, partiamo subito perché oggi ragazzi o meglio questa sera ci sarà l'aggiornamento delle playlist. Treyarch come vi ho riportato anche nella giornata di ieri ha annunciato le playlist che arriveranno questa sera. Questa sera tra le 18 e le 19 arriverà un aggiornamento interno che introdurrà Fireteam, Bomba Spork a Coppie, Scontro 2v2, Progetti Arma e Ride e Crossroad Assalto 24-7. Inoltre oltre a queste playlist troveremo nuovamente fisse all'interno del gioco quindi le lasceranno praticamente presenti all'interno delle modalità in rilievo. Nuketown 24-7, Caccia agli oggetti quindi nascondino e Faccia a Faccia 3 contro 3. Questa sera invece ci sarà anche l'aggiornamento delle playlist per Warzone. Infatti sarà introdotto o meglio rintrodotto Malloppo Quartetti, verrà introdotta la Mini Royale 2 sull'Isola della Rinascita e ritorna finalmente la modalità ritorno terzetti quindi la modalità che avevamo provato al lancio di questa mappa. Quindi Isola della Rinascita con i terzetti e il respawn. Saranno invece rimosse la Mini Royale Quartetti sempre su Isola della Rinascita e Malloppo Denaro Sporco Trio. Ieri in tantissimi avete segnalato un nuovo bug e glitch che capita raramente ad alcuni utenti che permette di essere schiacciati dal lancio di equipaggiamento e di far finire il giocatore all'interno del nuovo Gulag 1 contro 1. Questo ovviamente permette di uccidere le persone che in quel momento si scontrano nel Gulag. Dalle mie informazioni questo glitch è in fase di lavorazione. Vi ricordo che se viene fatto siete soggetti a ban all'interno del titolo e quindi vi consiglio di non utilizzarlo. Infatti lo riporto soltanto come notizia dato che ieri mi avevate chiesto aggiornamenti a riguardo. Activision nella giornata dell'epifania ha annunciato che Mother Warfare e Warzone combinati hanno generato in un solo anno 1,91 miliardi di dollari di ricavi, diventando il gioco con più ricavi dell'anno. Ottimo risultato anche per Cold War che in poco meno di due mesi ha generato ricavi per 678 milioni di dollari e si è assestato al quinto posto. Quindi la domanda che ci viene subito in mente come community ma allora perché non investite in server più potenti e in un anti-cheat con i cosiddetti? Punto interrogativo? Non avremo mai una risposta. Infatti in merito proprio a questa cosa ieri ha fatto una polemica al Tom Henderson che molti di voi sicuramente conosceranno perché riporto diverse volte nei miei video informativi che ho noto leakers del mondo di Call of Duty che ha chiesto pubblicamente sul suo profilo ad Activision di ingaggiare e di investire nella figura del community manager per interagire con la community code e rilasciare risposte alle tante domande che vengono poste. Insomma per far rendere Activision e ovviamente gli sviluppatori più attivi sui social perché veramente sono più le notizie che escono tra i datamanier, l'insider, i leaguer, chi più ne ha più ne metta che veramente Activision e i suoi sviluppatori o i vari community manager che sono in circolazione affinché uno riesca ad avere notizie, domande e chi più ne ha più ne metta sul mondo di Call of Duty. Ma ieri ragazzi mettetevi comodi è stato anticipato di un giorno il nerf delle armi o meglio il presunto nerf. Vi dico ufficialmente la patch note è completamente tradotta in italiano poi ovviamente facciamo alcune considerazioni insieme. Allora il DMR14 gli è stato ridotto il danno ai colpi alla testa ha aumentato anche il rinculo. Sul Type 63 riduzione del danno da colpi alla testa ha aumentato il rinculo quindi sia il DMR14 che il Type 63 che avevano ovviamente alcune differenze dove il Type 63 è leggermente più preciso ma meno cadenza le sue entrambe sono andate ad incidere sugli stessi identici parametri. Quindi adesso anche se sono stati nerfati tra virgolette hanno sempre questa differenza che vi dicevo appunto adesso. Il MAC 10 è stato ridotto il moltiplicatore danni da colpi alla testa mentre le doppie pistole c'è una maggiore intermittenza di fuoco nella parte dell'anca del giocatore riduzione della portata del danno. Quindi vuol dire che ovviamente adesso fanno sempre danno ma dalla corta distanza. Bene, ieri sera ho avuto modo di provarlo, ieri sera ho avuto modo anche di confrontarmi con alcuni devu della community, ieri sera ho avuto anche modo di fare un sondaggio per chiedervi sul mio canale di Telegram che cosa ne pensate. Bene, il sondaggio diceva che cosa ne pensate del nerf alle armi avvenuto su Warzone e il 18% ha risposto sì va bene questo bilanciamento, l'82% ha risposto no, andavano depotenziate di più. Ma qual è stato appunto il problema? Praticamente ragazzi sul DMR14 e quindi parlo principalmente dell'arma che ovviamente adesso ha monopolizzato le lobby, nonostante gli hanno ridotto i danni e i colpi alla testa perché prima uccideva in due colpi, adesso uccide in tre. Prima mi capitava di uccidere persone con quattro colpi, adesso ce ne metterà cinque, sei. Quindi a tutti gli effetti se uno sempre è veloce con la cadenza dello sparo tutta questa differenza col DMR non c'è e il rinculo ragazzi si riesce a gestire tranquillamente. È stato aumentato ma niente di così esagerato. Infatti se avete giocato ieri sera vi sarete resi conto che continuano ad essere ovviamente presenti nelle lobby tutti i DMR14. Quindi il nerf che c'è stato è un nerf non nerf. Sicuramente andavano depotenziate molto di più. Staremo a vedere se ci sarà una seconda ondata di ottimizzazione e bilanciamenti perché ho visto che già sui social sono iniziate le prime critiche. Ve ne faccio vedere una molto interessante addirittura che arriva da parte di Jeff Lerch che è attore di Modern Warfare. Questo ragazzo appunto è uno dei personaggi della campagna di Modern Warfare. Ieri addirittura ha criticato in casa, infatti ha criticato il nerf al DMR14 chiedendo un depotenziamento più importante come ad esempio al ratio di fuoco. Quello che vi dicevo precedentemente dovevano lavorare su uno degli aspetti più importanti che è appunto la cadenza degli spari e la velocità del puntamento, la velocità a mirino, l'ADS. Due dei parametri che andavano sicuramente ritoccati su un fucile tattico ma io gli avrei anche cambiato le munizioni andando a togliere ovviamente munizioni da fucile d'assalto andandogli ad integrare le munizioni da cecchino come un SKS o una qualsiasi altra arma. Mentre per quanto riguarda le doppie pistole vi posso dire che il nerf c'è stato però considerate che se siamo sempre nel range dei 2-3 metri sciolgono ugualmente quindi c'è stato proprio quel piccolo ritocco per la media distanza ma niente di che quello che ho notato di più vedere depotenziato mi è sembrato molto di più il Mach 10. Ieri mi è capitato di perdere due gunfight contro un MP5 cosa che prima non mi era capitato. Loro dicono che è stato ridotto soltanto il moltiplicatore danni da colpi alla testa ma qualche altra cosa sicuramente a quest'arma è stata toccata perché mi sembra molto più strano soprattutto l'entrata dei colpi. Sembra come se avesse meno danno su questo aspetto vorrò essere più preciso sicuramente nei prossimi giorni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti voi che cosa ripensate vi ricordo come sempre iscrivetevi sul mio canale YouTube per non perdere il TG Code giornaliero mille mi piace per questo video informativo sul nerf nor nerf delle armi e noi ci vediamo alle 13.30 in live e domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Code